Duetta con me il tuo dialetto. Io sono di Bari, il mio dialetto è balese. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Di dove sei? Di dove sei? A così. Di dove stai andando? A dove stai bene? A cosa stai bene. Quanti anni hai? Quando anni? Quando anni hai?